Adesso che abbiamo la bomba crociata, la proviamo. Ma devo premere qualche tasto, non ho capito bene. Tieni prima il punto R e premi Y. Ok, sì. Ok. Ok, serbatoio missili. Oh no. E come passo? Ah, così. Sono stupido. Ok. Uguale qua. Ok, classico tutorial. Tra l'altro qua Esatto, posso andarci. What? A cosa mi è servito andare lì? Ah, per aprire perché non era aperto, giustamente. Apriamo anche qua, per sicurezza. Va bene. E ora si va a Ferenia. E invece no! Colpo di schiena ragazzi, ultima zona. Ah, Nubia! Mmm, sarà anche la zona della boss fight, ti immagino. Ed è l'ultimo Emmy. Della boss fight finale, intendo. E l'ultimo Emmy. Ok, ok. Quindi c'erano... Sono sette le zone, ma... E l'un non vale tanto come zona. Diciamo. Ah, Nubia! Mmm, interessante. Che qui piove. Ok. Ah, è così. Tanto per l'ho fatto. What? Sta crollando tutto qua. Mi ricarichi i missili, mi servirebbe anche la vita, addio. Il salvataggio, penso che mi valga il viaggio con la navicella come salvataggio. Oh! Adam, dimmi tutto! Così salvo anche, intanto. Yes! Ah, addirittura. Vigliacco. Come sempre, tanta fiducia in me, Adam. Ok, vado a esplorare un attimo Anubia, qua. Ehm... Va bene. Lì, è bloccato in alto. Ok. Un po' di vita non fa mai male. Allora, vediamo. Ok. Uh, questo è un raggio che mi manca, però. Però i raggi ce li ho già tutti. Strano. Allora non si aprirà con un raggio? Ah, bastardo. Vai per prendermi, eh. Ok, qui non c'è altro. Ok. E qui c'è questo. Easy. E di qua si passa qua. Bastardo, lui, devo dire. Ok. Oh, zio. Ah no, questo non si può perriare. E invece sì. Bastardo. Vabbè, questo è morto male. Però c'era anche una... Abbastanza qua. Ah sì, posso prenderla. Dai, vieni qui, zio. Ahia. Ah, fame. E di qui? Ah, torno indietro. Ah, ma le zone con l'attacco a vite poi rimangono così per sempre, no? What? Ma che cazzo succede? Dove devo andare adesso? Sono appena arrivato. Ma, va bene, sì. Facciamo Ferenia, ok. Come avevo detto all'inizio. Solo che non mi aspettavo di passare per Anubia. Torna più tardi, intende. Dopo che è battuto Remi, probabilmente. Ok, Adam. Lo farò. Va bene, va bene. Va bene. Quindi abbiamo un'altra zona e mezza da esplorare. Anubia è metà Ferenia, diciamo. delle altre, credo, di aver esplorato tutto al 90%. Quindi, poi esploreremo al 100% quando dovrò fare il backtracking finale. Perché qua ho capito che puoi fare backtracking una volta ogni sei ore di gioco. Quindi. Eh, è strano che non lo prenda. C'è qualcos'altro di segreto? Allora? No. Strano. Quanta vita, eh. Ma, scusatemi, eh. Oh, va bene. Adesso non ci si può andare. Cos'è? Quella roba dietro. Un'arma? What? È un'arma, dai, dillo. Arma, dillo. Arma, dillo, 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 dillo. Finalmente ci curiamo dopo secoli. E invece è un attacco vite. Quindi, fatemi capire, gli attacchi a vite rimangono. Andiamo di qua. Ops, ho sbagliato a tempismo. Ok. E ci colleghiamo qua. Sbagliato. Allora. Ok. Questo? Ah no, questo è il raggio di carica. Ok. Non volevo perriare quello, comunque. Mi devo allenare nei perri, perché faccio schifo. Ok. Allora, attacco a vite sicuro. Ecco, infatti. E invece no, l'attacco a vite si ricarica. Quindi, boh, non ho idea. Qua? Niente. C'è sperato. Ok. Ok, qui abbiamo l'ultimo... No, è sempre quel lemmi. Andiamo con i piedi di piombo. No, 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 zio. Non hai capito. Che culo che mi è passato così. Non mi ha visto, stranamente. Ancora no. Che culo, mi sono trasformato all'ultimo, raga. Ok, ho collegato le due zone. Salviamo passando di qua. Ok. Quindi ora devo andare sopra. Almeno ho collegato le due zone. Non venire qua. Grazie. Sto perdendo vita a palate. Mamma mia, sei OP quest'attacco. In generale Samus è abbastanza OP come personaggio. Oh, non ti temo più, bastardo. No, volevo dire... Non ti temo più, Amy, nell'acqua. Ok, però devo sbrigarmi lo stesso. Se non è così, no? No, ah, ok, sì. Sto per dire boss fight. E beh, per forza, il cervello centrale. Ho già capito che lo combatto normalmente, perché tanto... L'unico boss che faccio sempre è il primo tentativo. Me la sono gufata, eh? Adesso muoio. Ok, ce l'ho fatta quasi. Dai. Dai, muori! Voglia di schivare zero. Tanto non serve un cazzo. Guardate, anche la vita quando muore. Sab, battiamo il penultimo Amy. Che mi sto caccando addosso. A girare... Questa zona con lui intorno. Sì, Iron Man! Sì, cannone Omega, scarico Omega, flusso Omega. Ok. Perfetto. Era tanto che non ammazzavo Lemmy, eh? Ah, io dove devo passare adesso? What? Dove devo passare, raga? Non sto capendo, però. Devo passare di qua? Cosa devo fare? Ah! Ma chi l'aveva visto? Ma non si capiva da quell'inquadratura. What? Cioè, uno deve premere per sbaglio. Per capire. Va bene. Ok. Cioè, scusami. Ok, adesso devo capire. Dove posso incularlo? Non venire ancora. Oddio. Ah, ok. Devo andare di qua. Veloce, però. Ah, bastardo. Ok, di qui si scende. Va bene, mi va bene. Almeno non mi ha preso. Ce la faccio qua? Secondo me no. Però ci proviamo. Eh, no. Non chiedetemi come ho fatto. Mi sono anche bloccato. Eh, no. Niente. Adesso devo riaprire tutto. Cioè, devo aprire e poi rifare il giro perché è tutto bloccato. Figa, anche gli ostacoli ti mettono. Che due balle. Ok. Ce la faremo. E lui mi darà un'altra abilità, giustamente. Let's go. Ok, allora. Ok. Ok. Allora. Ok. Ok. Scusa, che devo fare adesso? No, non posso usare a scendere. Ma devo batterlo qua, davvero? Dove non c'è praticamente spazio? Eh, no. Ma qua mi vado a inculare da solo. Oh! Stai calmo, Fra. Eh, ho perso. Cioè, nel senso, mi sono bloccato. Eh, no. Eh, ma che due coglioni. Ma dove cazzo devo bloccato? Che palle, rai. Come... Dove... Dove devo... Ammazzarlo? Scusate, eh. Ma... Ok. 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 Qua devo farlo Per forza Oh ce l'ho fatta Era semplice in realtà Come al solito mi incasino io Sa penultima abilità credo Forse Non lo so Di sicuro una ce l'ha l'altro Emmy Che cosa sarà Non ne ho idea L'unica che mi viene è la gigabomba ma non credo What?